Con Tatiana Guderzo che ha appena concluso la sua prova, descrivici questa cronometro. Ma è una crono entusiasmante, spettacolare, molto tecnica, insomma da pelle d'occa, ecco la parola giusta. Sia per chi la fa, sia per quelli che la vedono, perché le strade sono belle, molto tecniche, e dunque si vede proprio oltre che la forza fisica di un atleta, anche la sua abilità, la sua vicinità. Dunque credo sia una delle crono più belle che abbia fatto. Veramente complimenti a Sara Brambilla, agli organizzatori, perché è spettacolare. Ecco, parole importanti le tue, perché sappiamo quanto è importante la visibilità per il ciclismo femminile. È stata anche una scelta fortunata questa di interire la cronometro nel weekend, quindi anche con una buona presenza di pubblico? Ma sicuramente sì. Poi essendo a Roma voglio dire che sicuramente il pubblico è presente. Durante la strada, soprattutto negli ultimi chilometri, molte persone mi incitavano, indipendentemente che sapessero o non sapessero i nomi, dunque veramente calorosi come persone, come tutti. Ecco, quest'anno un percorso di girodonne meno duro rispetto alle ultime edizioni, da domani si comincia a salire, cosa possiamo aspettarci? Ma meno duro sulla carta perché non ci sono nomi come Moltirolo e Stesio. Ma sinceramente tutto questo giro facile io non lo vedo, anzi se posso dire la mia opinione, quando ci sono salite impegnative, ma non con il nome di Moltirolo e Stesio, la tensione sale perché comunque ci sono strappi molto più brevi ma più duri, dunque serve molto di più la squadra, serve molta più concentrazione, dunque forse a salita è meno duro, ma come concentrazione tecnica e lavoro di squadra sarà molto più complicato. Ok, grazie.